Welcome to hell Metti l'Aiden Come leva l'Aiden? Pronti? Aspetta F11 Ok ci sono Facci la spiegazione della selva 3 2 Selva Lasci tutto Aspetta la lascio Che cos'è? Che stai facendo? Vabbè Io bevo nel frattempo Adesso non ti dispiace Chiudi Grazie Vabbè spagata la bottiglia 3 2 Pronti? Vai 3 3 3 Aspetta No ho spuntato sul microfono 3 3 3 3 3 3 3 2 1 Salve a tutti ragazzi Benvenuti in questo primo episodio della ManaggiaTuttoCraft Che entrerà nel terzo episodio sul mio canale Però è il primo episodio in generale Quindi salve Benvenuti in questa nuova serie In cui MannaggiaTutto Succederanno tante belle cose Vero? Vero e vero? MannaggiaTutto c'è lo strike Benvenuti MannaggiaTutto c'è lo strike Allora siamo soul No non c'è soul E' da soul E' da soul Va bene E' da soul proprio E' da soul E' gg Detto anche MannaggiaTutto man MannaggiaTutto E' bello L'uomo del MannaggiaTutto Siamo su un mondo generato nuovo Abbiamo deciso di partire proprio dalla scremata play multiplayer Perché così è figo Voi direte Ulisse ma hai messo l'IP? No non lo metto perché sono scemo E quindi andiamo Entriamo Join server Fai Ah abbiamo fatto Abbiamo una piccola missione Anzi un piccolo Diciamo una piccola cosa figa Chi muore C'è un minotauro C'è un minotauro Ulisse sono morto Cosa devi dire Cosa devi dire MannaggiaTutto Esatto Scappa 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 Ulisse ti ho visto Non chiese ul Che cosa? Salve Bella Fuga Gigi C'è un minotauro C'è un minotauro C'è un minotauro C'è un minotauro Cosa Perfetto Il problema è che c'è un minotauro È aperta tipo Vabbè è bella Cosa sta Il minotauro è qui Il minotauro è qui Dove sta Dove sta Dobbiamo scappare Ulisse ti prego Eh aspetta un attimo Eh Incastrata Buongiorno sono Nico Fu C'è del carbone C'è del carbone che bello Che bello Un waypoint V C'è un minotauro C'è un minotauro C'è un minotauro C'è un minotauro Ma è morto Ah MannaggiaTutto MannaggiaTutto Un attimo Si sta a fare un paio di cose Mi hanno detto Ah ecco Minimal Poi facciamo Ok Basta andiamo Ma sono morto Ragazzi Sì è morto Ecco siamo il minotauro Ma l'ha già tutto Croft Ma no non se ne va il minotauro Io sto scappando Lo uccidi Lo uccidi Come uccidilo ma te sei scemo Allora noi siamo qui Gigi Ok Devo morire per forza Si così veni da noi Si però se mi permettete muoio con stile Ecco uccidimi pecora E ma E ma Ma no 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 no! scava, 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 scava chi? ti dò una mano, ti dò una mano ce l'abbiamo fatta ci verrà liana, ci verrà liana il fatto è che secondo me solo morirebbe anche da solo eh secondo te perchè ho scelto solo come nome solo vaffanculo c'è bisogno dei mob, questo si è ammazzato da solo tanto voglio fare allora, dimmi grazie, non dovesse tu hai fatto, vuoi un po' di vino vuoi un po' di vino, vuoi un po' di vino? VINO! è buono, vuoi il vino? dov'è il vino? se non vuoi il vino ragazzi, facciamo oh oh, se ti fa guarda chi, ci si mi va, me va ma è buono, ma cosa? che? che senti? ma guarda che piccata, guarda quanto roba c'è, guardala ma cosa? ah, ho qua terra infatti, può stabilizzarci qui secondo me io faccio un attimo una c'ho la crafting, aspetta ti metti tu, metti tu, ok perfetto il sole è sparito come sempre dove sei? da qualche parte da capo ci sto chi? chi cazzo è qualcuno che ti segue? chi? chi cazzo sta inseguendo? fuga, adriade adriade? ma vabbè, ma quelle mica sono cattive si, invece allora Uli, se mi dai una mano, guarda ho messo a crafting table ci facciamo un buco di culo dove dormire cioè, dormire, tra virgolette, dove ripararci e le caprezze allora voi prendete la legna io e Gigi prendiamo della cobblest bravo Gigi, abbiamo preso già il piccone io già lo sto facciando, vabbè oh che cazzo! eh, scusa Gigi, è una mia abitudine mi succede sempre quando sono in pubblico esatto ahahahahah allora, che avrete comunque migliorato l'ampio perchè... avevo dimenticato non lo sai fa altro quindi bisogno di mettere per cento cosa che non abbiamo ovunque io vado alla ricerca di pecorilli vabbè, guarda l'altro positivo Gigi beh, Uli, se lo sfruttiamo questo buco dai dai, sfruttiamolo pecorilli pecorilli prendi la legna facciamoci un po' di armo magari cos'è sto coso? vai ammazzare le pecore per cibo e lana no, no, ma eh ma vieni da me ora cosa mi sta seguendo? che è un pollo questo coso prendo faccio una spalla solo no, faccio io solo che bestia è? ehmah tieni, ehmah ok, è fatto ehmah tu è solo andato a fare un po' di... è un pollo non è un pollo, è un ciocco po' quello un che? è un ciocco po' quello di... ma che cavolo? questo coso è vericoloso, ragazzi questo coso fa male, oh uccillo, uccillo la mia spalla eh, si, a ping pong che siamo giocati è arrivata l'orda quella di dietro delle Uli Uli cos'è? eh, questa signora ma parla di cazzo, ma non è carne ora? è la famiglia questa questa è la seconda madonna mia, ma che è? è una tragedia Uli me ne la vuole mani andate qua Uli me ne la vuole mani cara che si scappano ma dove andate? muovemo ah, adesso che siamo a... si scava? si trova, ecco eh no, ma... ma andai già tu ah, Uli si va ucciso manco lo... manco i polli qua Uli, tu con me a scavare un posto di... è quello ok mentre invece, ehm... dimmi, dimmi tu e... adesso andate a prendere un po' di... di lana trattino cibo qualsiasi cosa commestibile qua abbiamo anche... qua abbiamo anche dell'acqua quindi possiamo anche piantare qualcosa, eh? ehm... però che ne dici? ehm... per comporre... gg, facciamo una fornace non ci ho trovato tipo il mini vai, la faccio... la faccio io? a scavare il vino no, faccio, faccio, faccio qualcuno mi ridà la mia spada ehm... si, su, vieni a me venga aspetta venga è più bella quella, eh? bella? ti piace? ehm... bravo mannaggia tutto ehm... non sono morto però, stranamente ehm... qualcuno è morto per un'arpia? non lo so un'arpia qualcuno doveva dire una cosa doveva dire ecco, ehm... ehm... mannaggia tutto, craft ehm... ma anche se lo mannaggia tutto e pezzi di Kobe, secondo me, facevo un po' di roba nel frattempo cos'era quel cosa? era uno... certo, squartz, bello ho visto una cosa a volante cosa che hai visto? ti guardo alle spalle ti guardo alle spalle ehm... sì, però non girarti che... guardami, guardami, sol ehm... ahia, sol non mi fate male che mi è ammazzato in questo caso era quella l'idea però ehm... uuuh, lana, lana gg c'è un lucky block c'è un lucky block qua come lucky block? ehm... ok ragazzi, potrebbe essere un... un po' diamante! diamante! come diamante? eh sì, vabbè, a posto ho detto non aprirlo è esploso sono folli aspetta, aspetta, aspetta da quando le capre droppano letti? non lo so il palo mi fa male se volesse il palo, aia un pezzo di merda ecco, palo di merda figlio, non riesco a prendere velocissimo ma che è vero? ma che sta fermo? è vero aia l'annaggia tutto è il nemico più... ma no, ha ucciso la fanguzza ehm... gg gg, vedi che sta dietro dimmi che c'ha fatto? gg, io guarderei un po' sopra guarda un po' sopra guarda un po' sopra d'altra parte d'altra parte cos'è quella bominia? un centauro no, un'altra volta help ma scusa sabbia mobili ma vuol dire che con lui si è fatto un cavallo o sbaglio? ma mi fa male il mio... non mi fa un cazzo? eh no, in teoria mi sembra che sono l'attacchino ok ok non ci fa niente andiamo... andiamo dentro Ulisse ah sai, prendo un attimo... è prendo il quarzo che sta qua cioè è finito ma tu perché hai fatto... ecco quella intanto è l'arpia ma hanno già tutto sta stuprando solo l'arpia è bello però che l'arpia fa apposta che vero? non ti attacca però quando vai vicino dov'è che dove... qua vai entriamo dentro signor Gigi eh l'ho fregata l'ho fregata lascia la la dov'è però che... ah qua di qua ah allora signor Gigi ha preso tutto quanto? si ho preso io tutto perfetto signor Gigi si fa le torce faccio io eh faccio io le torce non vi trovo non trovo più la... salve muori eh ma sei morto mi spiace è stato bello è stato bello allora Gigi se facciamo un altro... guarda qua se facciamo questo facciamo che cazzo sto facendo questo più questo bam eh non è questo scuso sbagliato ma lo volevo fare io le torce no il juicer perfetto ecco qua tiè scoppiamoci a bestia aspetta dove siete in quella casettina piccola? si si no no Emma 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 cibo 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 mi porta il cibo mi porta il cibo ma perché andate ci faccia? entrate 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 una particina bella di questa casa allora e soul? e soul? soul? mettete nelle ceste per non c'è sopra e soul divisi mettete tuttora nelle cest... sei riuscita a prender... da dove cazzo c'è soul? là sopra Non per dire ma ci aprono la porta qua Non per dire ma io scaverei giusto un po' E infatti quello che voglio fare Vai scaviamo Tu con tutta che c'è la cesta Dov'è che le vai mettendo le cose Imbraccia me Imbraccia te Mio telefono squilla in un modo Radicale Nessuno saprà che è un occhialino Ulisse soffri di Mi sa che soffri di Non so di qualcosa precoce Ti giuro non sono abituato con le shift Eh lo so che non sei abituato Com'è che t'ho picchietto col destro? Guarda Perché t'ho toccato No non t'ho toccato io T'ho toccato io e l'ho toccato Però non dirà nessuno Guarda adesso t'ho toccato uno Cos'è? Morse c'è qualcosa di caro Oh Gigi faccio una cosa bella Buonanotte Gigi facciamo le due Che gli altri sono scarse Cioè dimmi Già Gigi Siamo nella stessa cazzo Soul che cazzo scrivi soul Pronto Perché c'hai sul microletto? Dov'è letto? Dov'è letto? Gigi Dimmi E' stato emo Cos'è che è? Block name Tearstone Block ID Che c'è? Vai tranquillo Un buon lavoratore T'ho Gigi Tieni Tieni Un uovo Tieni Un uovo? Ah lo vado a cuocere Tieni È già cotto Gigi Lo pulito È già cotto Ah Quindi si mangia E certo È buono Mh Non mi risalano un cazzo di fame Ce l'ha Gigi Cosa? Fa sto Ma che cazzo vuoi Ulisse? Ce l'ha il piccone Ce l'ha il piccone Ulisse Ce l'ha il piccone No non ce l'ho io il piccone Avete carbone? Vuoi mettere un po' di torcia Guarda quello Guarda quello La mia attrice umana Cazzo Cazzo Caterpillar Caputana Aspettami Te faccio il giro di cose Aspetta almeno le torci Tin C'è del tin E' il brutto che non ce l'ho Le torce Ce l'ho io le torce Dove cazzo sei andato? Ricordate Quello che ho dato il quarzo E' potente quando con l'inferro Però è fatto di quarzo Cos'è la Chimerite Or? La Chimerite Or è un Or Grazie Dell'Ars Magica Sì Sai fare tante cose Puoi vedere Della rata magica Si sta succedendo qua Ragazzi ma scavate come degli assassini Ho premo per sbaglio Ho fatto premuto Anche Emma soffri Della colazione precoce con me Abbiamo capito Ma che cazzo Ho fatto No no Non riempire Scusa Eri di mezzo Non è colpa mia Trova una caverna? Cioè nel senso La chiudi La chiudi E la prendiamo un'altra volta E cosa facciamo adesso? Allora Che troviamo? Diamanti? Allora No per ora Vediamo di trovare ferro Qualcosa che ci può servire Più su Che cazzino che lo siamo È al 49 Eh 45 Sì Emo per esempio Ema Sei starving? C'ho il cibo io se vuoi Ema Non so quanto ne vuoi Eh sono lento Come sei lento? Eh guarda E' preso Ema No Volete sale? Mi raccomando Solo un bicchiere Perché se no Poi fa male alla salute il vino Del ferro Del ferro Oh cristo no Che cazzo No 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 Quello non è ferro È ucciso? Tutto a posto lì se Posso andare avanti? Io Vabbè Prendo un altro ferro L'UCCISO L'UCCISO Sono un fenomeno Ah ma non esce la loro È falso Non esce l'oro È una truffa Mannaggia tutto Ma qui ci sono i zombie Vuol dire che c'è Che c'è qualcosa Qualche dungeon qualcosa Da qua Cos'è? Levati Levati Chimeri Perché sono ti fanno Avati a me Scusate Scusate Ahia Mannaggia tutto quanto Mannaggia Da qua ragazzi Ragazzi qui sopra Qui sopra Eh no Non lo farò uscire Lo zombie Se permetti Ah Che bravi Ah finalmente Bravi Ah che ha potuto qua La power ore Non è un giorno sopra Così andiamo a fare una parma Almeno Scusami No no Penso sia di qua Probabilmente Di zombie Ho lasciato un piccone Nella schiena di Eman Perché lasciate Il vostro piccone Nelle ceste Quando avete Le schiene di Eman Dove è che Ancora Ancora E sopra Agia Che 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 è Giorno Notte Ancora notte Ancora notte Ma sei dormissima Ah no abbiamo abbastanza letti Trovato Trovato Che io scavo a casa E qui sopra O qua O qua Che culo ragazzi Abbiamo già nove diamanti Che culo Davvero Che culo Eh si perché Ha trovato come si chiama Il lucky block Sta qua Sta qua Esatto E qui sole Facciamo scavare un pochetto Scopriamo Io avrei un'idea Su come scavare velocemente Però Verso l'alto Non voglio niente A capo precoce Ok Soul No Non si fa Soul Ma dove sei andato Scusami Se tu vai Se tu vai dal medico Soul Puoi risolvere questi problemi Ti capisco Cioè non ti capisco Parliamone va Ti capisco Però non ti capisco Sai che però L'ho sprecato Funziona mai Con quelli di legno Che hai trovato Ulisse di bello Gigi Coal Vaccaboia Quanta roba Gigi Non utilizzare lo shift Con quel piccone Se no lo consumi tutto Per nulla Lo sai che io sono Uno di quelli che shift Non utilizza mai Perché sono un derp Poi si vede perché muore Esatto Io muoio nella lava Come se non ci fossero domani Mi dà la mano Andiamo fuori A prendere l'acqua Pensavo No fermi Che di qua Guarda sempre di qua C'è qualcosa di qua Ah E noi andiamo di qua Dovremmo trovare O una farm Perché sembra Sembra Sì Sembra odore di farm Odore di farm Sì sì Perché ho sa Purissima 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 Carro carbone Acqua 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 Che c'è qua Eh sì È un piano che fa Acqua Qua C'è qualcosa qua Io lascio tutto a casa Eh oh 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 Eh aspetta sono andato a finire Non morimi nel pesce Ulisse Oh la c'è l'essenza Questi quelli li dobbiamo prendere perché sono belli Posa Aspetta prendi tutto Io andato scavo qua Eh magari si potrebbe scavare sotto Ah Il signor Gigi sto affogando Eh ma Eh ma Il signor Gigi io Io ho il terreno Di precocezza O problemi Di Aspetta Tranquillo Di tutto Piusciremo a curare Che hai fatto Ci paccavo di nuovo tutto No eh Assolutamente no Allora A posto A che ti serve l'acqua Eh per farla farm Per non andare fuori Eh Questo se springa Dimmi che se non la chiudo eh T'avviso Ora Notte Mmm Lasciare un buco d'acqua Ulisse Eh sì Ci sono due buchi Allora Ma 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 già tutti così Fuga Fuga Ah ma è giorno Sì Guarda quanto Oddio che cazzo sta entrando Eh io Che cazzo è ma Dio Che cazzo è ma Eh ma sei un imbecile Ma te lo giuro Porca di città Va Cascifosa Cosa è quel Cosa lo so Ammazza questa cosa Ammazza questa cosa Dio Se fa schifo Nel mentre Ne sono due Ne sono due Ulisse ti prego torna Ulisse ti prego torna Ok Qualcuno Arrivo Che ha tagliato l'albero Hai chiuso la porta Sì 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 Non riesco a fare Non gli faccio danno Non gli faccio danno Amici Amici Pronto Mandiamolo daima Mandiamolo daima Mandiamolo daima Ragazzi Cos'è quella cosa Cos'è Uno spring gun Andiamo Andiamo tutti a tagliare un albero Venite venite Che cacchio è Ma dai però Ci avete rotto il ca Ma perché dovete aprire Sta cazzo Abusivi di merda Non posso stare una cosa Che entro l'abusivi Ma manco fossimo Cioè I testimoni di Geova Fuori devono stare I polli di Geova Allora basta Il primo che apre la porta Gli taglio la testa Ragazzi Il primo che apre la porta Gli taglio Cos'è sto qua Cos'è sto zombie Perché c'è un metà busto E perché è bello Venite sopra un attimino Proprio no Io non esco Entro io Allora È muti però Chiudi 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 Ma no Più che altro Vorrei farvi uscire un attimino Per farvi vedere una cosa Lasciate tutto la cesta Fidatevi di me No 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 Guarda Guarda Lo vedi Come è la mia questa porta No Prondo Siamo cristiani No no Non spaccate la porta Non spaccate la porta La rompe comunque La rompe comunque Quindi Grazie Scusatevi Uli uccidi Uli Uli Ma state sponendo tutti Ottima per favore E mai Hai visto cosa ci abbiamo sopra casa Di lucidità mentale E mai visto cosa ci abbiamo sopra casa Esci un attimo Uli Ok Guarda la cosa Vi prego Uli Fidati Salve Noi veniamo in pace Già presente il signore degli anelli con Yent È un piccolo Oh cazzo Yent Giù non Con più Gigi Una cosa bella Oltre a questo qua Che mi sta venendo a mazzare Sto stronzo Un altro pollo E gallina di merda E muore Cos'è qualcosa nero? Cos'è questo coso? No no Allora Se è nero Eh Se è nero C'è il motivo Ho visto una cosa bella qua vicino Che voglio mostrare Guarda questo Ai miei paesi Lo chiamano con un nome molto bello Chiamato tipo Guarda Vieni a vedere Gigi Eh sta arrivando Ah la toccola Esatto La toccola Ecco boldo Ma è grande davvero un sacco Che cos'era Anche da me Uli quanta vite c'hai? È una pantegana Tanta Aia Allora Sei una merda Ci facciamo una piccola farm qui? Sto prendendo la terra Vieni Emma Eh bravo bravo Emma Io vado a fare amici Con l'amico albero Uli ti ammazza Uli Uli ti prego non lo fare Uli non lo fare Ho i pezzi di cacca Vuoi un pezzo di cacca che pensa Che Un pezzo di carne? Tieni Pezzo di cacca Ho una palina dei cilos Schifo Una palla di carne Iron shard Che cos'è l'iron shard? Eh adesso la walk up Mi sembra lingotto mi sembra Sì Altro di quale fanno lingotto Ma c***o Cosa è un rumore? Questo è un rumore Ho un lingotto di ferro Mio dio Salve amico Noi veniamo in pace Siamo qui per parlarvi un po' di Geova Lui diceva cose belle in giro Parliamo di Geova Lei è interessato a convertirsi a noi o no? Ti sto levando un po' la sabra Si o no da quel rumore? Arriva a fare una cosa molto simpatica Uli Aspetta Salve centauro Noi vogliamo convertirla A una legione più bella Ulisse Chiedevi rompere i c***i centauri Lascia l'istare Ecco Eh si incazzata No si è incazzato Salve si è incazzato Ragazzi Cazzo Sono problemi in guini Cazzo di problemi Dio quanta gente Andate Fateli fuori Io ho visto tutto io Io ho fatto una strage Però sono un po' nella cacca Ragazzi Un centauri si è incazzato Si è incazzato nel nostro Nella nostra farm Come devo fare? Una l'ho fregata Vediamo anche l'altra No dico dove costruisco Sono fermati Ha detto no Non ho detto no Facciamo quattro Eh mica tanto Va bene qua la farmaga Gigi Un po' di carne Più bello No questo è intelligente Questo di carne Ma perché non si può di carne? Ma perché non si può di carne? Ma già tutto Ma come mai ci vuole un sacco per rispettare la vita? Uli Un'altra mano C'è un simpatico E' un artiglio Un artiglio Un artiglio E' l'artiglio del drago E' l'artiglio del drago E' dove? Annaggia tu Esploso Ulisse Esploso Ulisse Qualcuno ha avuto problemi di precocità ancora Ulisse esplode Ulisse la devi smettere Ulisse Ma non è colpio mia Ma che fai? Ma che fai qua giù? Io mamma l'ho detto Mamma ma io esplodo ogni tanto Mamma io ogni tanto esplodo Ulisse esplodo Esplodo di nuovo Ulisse Ulisse Oh mio dio Vabbè Ok ragazzi ma che ne pensate se ci veniamo qui per il primo episodio Eh si Vedete Vediamo la farm Sennò esplodo di nuovo Sennò esplodo di nuovo Sennò esplodo di nuovo Sennò esplodo di nuovo Ok finiamo la base della farm qua un tanto Eh riesco a rompere un paio di questi blocchi qua per esempio Cioè vediamo un po' con trompe Eh cos'è per tolgo la... Perché non rompe tutti i pezzi di dirt? Ulisse tu rompi sempre Ufff E' vero che non rompi Ok Non è vero che non rompi i pezzi di dirt? Eh ma perché? Ah ecco Ulisse che c***o Sempre in mezzo Ulisse Eh che vuoi da me i buchi sono il mio piacere Ma perché nappate? Un piccone Un piccone quella Ma dove cazzo è andato tu? Cosa è? Non so che questa potrebbe essere la degna conclusione di questo episodio Ok comunque stiamo per fare la farm Eh Siamo nella merda Moriamo come se non ci fossero domani Esatto ma fa nulla Perché noi abbiamo... Abbiamo l'amico immaginario che... Eh intanto abbiamo solo le Ulisse che esplodono come se... Fuga Eh ragà lo spingano di nuovo Ma basta ma perché? Perché queste belle Entrate Entrate ce lo spingano Ma posso dire che a me non mi rompono le scatole? Solo a voi Eh non lo so le ho fissi Aspetta Ulisse Guardate guardate Ne fa entra A te dovevamo fare entrare o non a lui Non mi fate colpire che sono morto Non mi fate colpire che sono morto Non mi fate colpire che sono morto Aspetta per voi ho colpito Levatevi Morto Managgia tutto Ancora Managgia tutto È morto Ok Ho potuto io Entriamo Ok 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 Non cazzo Non cazzo Non cazzo Ma se mi mangiare questo? Se mangia? Ne hanno fottuto tutto Grazie Prego Ok Managgia tutto Quindi Ulisse Chiudiamo su questo episodio? Esatto Sì Ok Sì C'è la discussione della Pixmo Perché non voglio dimetterla E quindi C'è sia Gigi Sì ma è solo Quindi tranquillamente c'è tutto Non preoccupatevi È una cosa fatta apposta Sperziamo E nient'altro Se vi piacciono gli episodi Ricordate che il solo è muto Fai sapere Quante volte morirà Sul Nel prossimo episodio Ci accettano scommesse Quindi Fatto che ci sapere Nel frattempo Noi Mangiando un po' di carne cotta Che il signor Uma Power Gentilmente ci ha offerto Prego Salutiamo E Dalla Managgia tutto craft E tutto E La corpore Lì dallo studio Che è un telegiornale Lì dallo studio Ciao 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 A posto